Ma tu lo sapevi che l'ottomaggio è la giornata internazionale della terassemia? Io sì, e tu? No, mi sono scaricato Ma se siamo qua proprio per ringraziare tutti quelli che hanno donato il sangue, nonostante il covid Ma perché c'è ancora il covid? Non si sente un virale con parlare Ma se c'è il covid, è proprio per questo abbiamo avuto un po' di problemi E stiamo cercando di donatori sempre più giovani Oh, io sono donatore Ma se tu non sei più giovane... Ah beh, se hai 70 anni lo posso dare E dai, allora qualche annetto ce l'hai Ma grazie Eh, prego Tra me si rilassano di bene